Dopo una maratona di oltre 12 ore, il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2013, una manovra da circa 1 miliardo e 600 milioni di euro, frutto di un accordo tra maggioranza ed opposizione che ha ritirato gli emendamenti ostruzionistici, mentre si è proceduto all'iscussione di quelli tecnici. In mattinata l'Assemblea ha dato l'ok alla delibera contenente la previsione di spesa della TARES alla nuova tassa sui rifiuti. Il costo del servizio è di 14 milioni e mezzo di euro, di cui oltre 8 a carico dei contribuenti. La parte restante, invece, sarà a carico dello Stato. Stando ad un primo calcolo, una famiglia che risiede in un appartamento tra 100 metri quadrati dovrebbe spendere circa 346 euro di TARES. Da 6 componenti si pagherà 446 euro, mentre un singolo in una casa tra 100 metri quadrati spenderà 155 euro e una coppia, mediamente, pagherà 241 euro. Il vicepresidente del Consiglio Comunale, Ermano Giorgi, ha poi rimesso il proprio incarico, presentando una lettera di dimissioni da toni durissimi, da cui si percepisce un evidente contrasto con il sindaco Massimo Cialente. Passando all'esame del bilancio di previsione, tra i vari emendamenti c'è quello del consigliere Ettore Di Cesare, che ha impegnato il sindaco a riservare una somma del bilancio, pari a 25 mila euro, per le attività strigionali e produttive rivolte alle imprese giovanili. Via libera anche agli emendamenti proposti dagli esponenti dell'opposizione Daniele Liris, per destinare delle somme a sostegno delle società sportive e dilettantistiche, e per bonus alle famiglie, per acquisto libri scolastici, testere ama per ragazzi e menze scolastiche. Tra gli emendamenti approvati all'unanimità, anche quello proposto dal sindaco Massimo Cialente, che stanza 1.200.000 euro a favore del centro turistico del Gran Sasso, per consentire i lavori sugli impianti di risalita e sulla funivia. Una piccola grande iniezione di liquidità per una società che l'amministrazione punta a privatizzare con il coinvolgimento di un socio, che però dovrà fare conti con debiti pesantissimi e un piano di sviluppo che davanti e fermo al palo.